Ciao ragazzi, bentornati dal mio canale e benvenuti in questo nuovo appuntamento di video assaggi la rubrica degli assaggi strani che mi piace tanto che va in onda ogni sabato alle 16 sul mio canale prima di iniziare a farvi vedere che cosa avete votato vi ricordo che gli assaggi che vado ad assaggiare sono quelli che votate ogni lunedì nel mio sondaggio in instagram mi raccomando andatemi a seguire se volete p lo strattino basso live questa settimana il sondaggio è finito in parità quindi quello che vedete l'ho scelto io io ho scelto questo che devo vedere verso bene nel dettaglio come bibita anche ho scelto ancora una che indica ma questa volta al gusto di marsh mello si è un po ammaccata perché mi è successo una cosa ragazzi prima di registrare questo video mi è caduta in ma dalle mani queste un po ammaccata e mi sa che la aprirò dopo perché se l'apro adesso qua verrà fuori un casino della madonna che cioè sporcherei in onderei di marshmallow possibili di marshmallow mezza camera e non vogliamo questo quindi passerei con questo che è soba meshi snack ecco qua non si succede bene soba meshi snack sono delle tagliatelle croccanti con sfoglio di riso alla soba aromatizzata per chi non sa che cosa è la soba la soba non è altro che pasta di grano saraceno in poche parole la pasta dei pizzocchi quindi io inizierei con questa allora non ho neanche una forbice no eccola parliamo ad aprire non ho aperto bene e sentiamo subito l'odore 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 ho bussato di riga di anziana con dei problemi intimi mamma mia ragazzi sa di pesce no no vi prego non ditemi che sei di pesce oddio c'ho paura io c'ho le cose di pesce si presentano in questo modo mamma mia sto facendo danno vediamo se scuola vedere bene si presentano in questo modo sembra sembra ragazzi il mangiare dei dei pesci o delle tartarughe vabbè quindi io andrei con l'assaggio alla vostra salute io vado con l'assaggio come vi dirò il gusto cioè vedere l'olfatto sa di pesce ma non è pesce è molto aromatizzato sembra di mangiare un risotto bello croccante presente il risotto quando si attacca sulla padella diventa un po' bruciacchiato ecco quello si è buonino è buonino mi piace mi piace diamo lì un voto come sempre vi ricordo che mi avevo attivato da 0 5 vediamo così da mangiare qui io questo gli darei un 5 un 5 perché mi piace anzi no direi un 4 e mezzo perché l'odore di pesce non mi piace però non sa di pesce e adesso di quattro risciacquiamoci la bocca con un questo candy e ken al marshmallow avvo assaggiato settimana scorsa quello alla alla torta di compleanno e la prima quella alla alla bubblegum e non mi erano piaciute tanto perché si sentiva veramente poco di gusto quindi ho paura che anche questo di marshmallow non si sentirà una beata cippa quindi la apriamo sto attento da pillo ragazzi perché veramente potrei fare i danni aiuto ok io ho aperto ho aperto sentiamo l'olfatto wow ragazzi marshmallow puro l'odore mi piace un sacco sembra che quasi un bagno schiuma veramente l'odore è è buonissimo c'è il 3 come profumo ma non è che buono vabbè adesso lo andiamo ad assaggiare sperando che non sia una schifezza tintin no com'è il gusto siamo sempre lì ma questo in particolare il gusto è più accentuato confronto le altre quindi questa mi piace mi piace gli do subito un voto ancora una volta vi ricordo che i miei voti vanno da 0 a 5 quindi le do un 5 perché questa mi piace mi sa che questa qua la prenderò ancora e altre no questa sì perché il dolore è fortissimo il gusto è più accentuato è veramente buono una bontà una bontà quindi ci sta ragazzi anche per questa settimana il video assaggio è terminato mi raccomando seguitemi ogni lunedì nel mio profilo instagram pio e votate quali prodotti dovrò assaggiare dovrò assaggiare con questo vi ringrazio il video è finito e con il video assaggio ci vediamo sabato prossimo sempre quale si rici sul mio canale ciao ciao